Sono contento di aver rivisto Obradovic, lo incontravo quando ero prima segretario e poi presidente della Pallacanestro, era molto amico della famiglia Benetton, allenato a Benetton Treviso e prima gli ho chiesto ma com'è che non torni in Italia? E non me lo chiedono, non me lo chiedono, no, no, ma lui è ambito in tutta Europa, lui veramente potrebbe allenare anche l'NBA e quello che dopo, prima di Messina e dopo Messina, aveva vinto più titoli di tutti e quindi complimenti a lui e contento di averli incontrato. Presidente, il movimento della Pallacanestro in Italia è in questo momento? Ma il movimento è buono, è sano, abbiamo grandi squadre in Serie A, poi noi a differenza di altri, non cito chi, abbiamo grandi imprenditori. Adesso non solamente Antonini, ma noi passiamo da Armani, Segafredo, adesso Gerardi, passiamo da Luigi Brugnaro, Mauro Ferrari, sono tanti i presidenti in Serie A, certamente li dimentico qualcuno, Sardara, per cui Beniamino Gavio, che è il secondo grande costruttore di opere nel mondo, quindi abbiamo veramente una bella squadra di dirigenti. Il campionato mi auguro sia interessante, con l'aiuto di tutte le società faremo un bel campionato. Grazie.